Questo però c'è un segreto, vi racconto un attantanto, mettiamo gli aneddoti. Facciamo la partita dell'Italia a Tolosa, Italia-Svezia, con Beppe. C'è sciopero in Francia, quando si è nato di sciopero è un dramma, c'è la sciopero degli aerei. Allora con Beppe abbiamo detto, facciamo una cosa, prendiamo una macchina. In Tolosa sono 940 km per tornare giù e quindi abbiamo chiesto una macchina in affitto. Passiamo il confine, un altro due imbecilli perché se facevamo benzina prima costava di meno, però vabbè. Facciamo benzina a 20 miglia, scendiamo, però ci vede, esce il benzinaio e fa minghia, caressa, bengomi, minghia, 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 arriva e mi fa fate la foto, fate la foto e poi guarda la macchina e fa minghia ma che cazzo di macchina mi hanno dato? Ma cioè è in affitto, ma cazzo la Mercedes dovete avere le cose? Non la chiedo più la foto e se n'è nato, non ha fatto più la foto per via della macchina Massimo Rissi che era comodissima e ci ha portato tranquillamente a destinazione.